Attimi di panico si sono registrati ad Eboli, dove i due ragazzi sono rimasti ustionati alle gambe, probabilmente nel tentativo di spegnere un incendio che si è sviluppato da una bombola del gas. Il fatto di cronaca è accaduto all'alba in una zona camping realizzata in occasione di un evento ad Eboli, nella zona di Sant'Antonio. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fugo. Pare che i due giovani sono intervenuti per spegnere le fiamme prima che la bombola potesse esplodere. Per fortuna hanno riportato ustioni lievi. Grazie a tutti.